Buongiorno ragazzi, mi hanno chiesto di preparare un piccolo pensiero, un piccolo spunto di meditazione per voi. Io ben volentieri ho accettato questo invito. Stiamo vivendo dei tempi particolari, dei tempi eccezionali, dei tempi irripetibili. Irripetibili nel senso che ci auguriamo tutti che una simile situazione non venga mai più a verificarsi in futuro. Stiamo anche vivendo secondo delle norme di comportamento che in tempi normali giudicheremo inaccettabili, lesive delle nostre più elementari libertà, irragionevoli, irrazionali. Eppure se ci pensate è bastata una particella invisibile all'occhio umano per stravolgere tutto, per stravolgere le nostre vite, per catapultarci in una realtà che sembra quasi tratta da un... sembra di essere dentro una fiction di fantascienza. Eppure questa è la contingenza che noi siamo chiamati a vivere, perché noi siamo chiamati a vivere nell'istante. Volevo farvi... mi è venuto in soccorso un pensiero di Giovanni Guareschi. Giovanni Guareschi, per chi di voi non lo conoscesse, è l'autore dei romanzi del ciclo di Peppone e Don Camillo. Sentite cosa dice. Cosa vuol dire questo? Che dentro le circostanze, anche quelle buie, dolorose, come quella che stiamo vivendo attualmente, è sempre sottinteso un bene per noi. Certo, non ci è dato sapere quando questo bene si manifesterà. Perché la realtà non la facciamo noi, a noi è solo chiesto di viverla. Io non so quanti di voi abbiano assistito alla celebrazione che ha fatto Papa Francesco sul sagrato di San Pietro l'altro giorno. Un sagrato deserto, quasi spettrale. Eppure a un certo punto lui ha detto che noi siamo arrivati in un momento in cui dobbiamo scegliere. scegliere se arrenderci al male che sembra vincere su tutto, o scegliere per il bene. Un bene che magari adesso facciamo fatica a vedere, eppure sappiamo che è lì. Perché noi siamo fatti per il bene, il bene è fatto per noi. E il nostro lavoro in questo momento deve essere proprio questo. Deve essere la ricerca di questo bene. Anche nelle relazioni per quanto siano compresse, siano limitate. Ecco, il pensiero che io voglio lasciarvi è questo. C'è un bene per noi e noi siamo chiamati a cercarlo. Direi che è il lavoro che ci diamo per questi giorni. Per quanti giorni saranno ancora che non sappiamo. Bene, io vi ringrazio molto per l'attenzione che mi avete concesso. E spero veramente di tutto quello di vedervi il prima possibile. Perché vorrei dire che finalmente tutto questo sarà finito. Bene ragazzi, buona giornata, buon lavoro e buono studio. Grazie dell'attenzione. Grazie. 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 Grazie.